Allora qui c'era la partita, nella partita siamo con i Paolucci Brothers, praticamente abbiamo il nostro Alessandro che con una gemma ha ipotecato i tre punti, anche se Mattia già qua non è proprio d'accordo, lui ha provato a rispondere con un bel sinistro piazzato e ci sei andato solo vicino al gol, partiamo dagli avversari, non volermene Alessandro? No beh lui sicuramente ha fatto un bellissimo gol, ha fatto un bel inserimento, poi non sapeva dove va la porta, ha tirato e l'ha beccata, io ho provato più di una volta, il primo tempo male, al tiro noi non siamo stati molto precisi, il secondo tempo abbiamo avuto anche un po' di sfortuna col palo però è andata così dai. Tu che ne pensi Alessandro perché poi a casa fate i conti di stasera? No forse ho ragione, ho rischiato la brutta figura, però mi è andata bene perché se avessi stoppato il pallone forse mi avrebbero anticipato, quindi ho detto ci provo, è andata bene dai. Tra l'altro è stato bravo Jordi perché ha rischiato di andare anche in offside, lì te l'ha andata proprio all'ultimo momento giusto. Un guai se non me la dava. Deve essere un bel duello a casa Paolucci però, questa sera qual è il menù della sera? Non dovremmo vederci, parleremo della partita come ogni domenica però finisce lì, non è che siamo, si va avanti per giorni, poi è normale che lui sarà molto più contento di noi o di me, però è giusto così. Però rimaniamo con te Mattia, il campionato nonostante questa battuta d'arresto rimane positivissimo da parte vostra e si può sempre migliorare, c'è ancora tanta strada da fare però è un Charlins che può mettere in difficoltà tutti in questo genere di eccellenze. In questa categoria tutti, possono giocarsela con tutti, non importa la classifica o tante altre cose, noi siamo ne promossa però abbiamo l'ambizione di far bene, per ora ci stiamo riuscendo però si può sicuramente migliorare. Il risultato di oggi ci può stare però pensavamo qualcosa di meglio, ci siamo un attimino disuniti sull'1-0, dopo loro sono stati bravi a far giare a palla con la superiorità numerica, è stato tutto più facile per loro. Poi avendo questo pubblico qua è normale che anche tante piccole decisioni, mezza e mezza, vadano al loro favore ma è giusto così. Anche questo è da approfondire questo concetto Alessandro questa sera? Sì ma ne abbiamo già parlato prima un attimo e forse, forse, forse posso dargli ragione perché se andate a vedere forse meritavo il secondo giallo anch'io. Hai rischiato qualcosina anche te in fare l'intervento, quindi se ha punito con il secondo giallo il loro difensore forse, forse il rosso anche per me c'era dai. Ma tornando alla frivolezza, in un certo senso i genitori da che parte stanno? Ti fanno più per Alessandro, più per Mattia, per tutti e due? Metà e metà, è normale che erano tutti contenti che abbiamo giocato contro la prima volta, poi il risultato non contava. Abbiamo fatto penso tutti e due abbastanza bene, sono contenti, penso, poi bisogna vedere. Tu te mevi di più tuo fratello gemello, più gropp, più magari la solidità di squadra degli avversari? No, io sono andato a vederli un po' di volte, perché ovviamente c'è lui, le avevo detto anche ai ragazzi naziani, ai compagni di squadra di settimana, che erano una squadra solida, difficile da affrontare, perché dietro, come si è visto secondo me, finché hanno resistito magari fisicamente, rischiano pochissimo. Poi hanno un giocatore in mezzo al campo tardivo che secondo me, per la categoria, è un lusso, io ho sempre detto anche a lui. E l'Alessandro Paolucci del Charlins? E' più bravo lui, è più bravo, ha più esperienza, è più bravo. E poi davanti, siccome tra lui e il Gropp fanno una delle coppie più forti del campionato, forse dopo solo a Rocca Campora e a Del Prete e Fabbro. Se la giocano bene anche loro, essendo una nuova promossa sta facendo, secondo me, ottime cose. Dopo la tensione della partita, questo è un bel momento di fair play, un bel commento. Sì, ma sono cose che mi ha sempre detto anche a casa, lui lo sa, poi si è dimenticato anche della loro coppia, o del loro singolo, perché Franciosi si è visto anche oggi, quando parte e accelera non ha niente a che fare con questa categoria, non c'entra niente, quindi sono bravi, fortunati loro ad averlo. Bravo lui che ha fatto due gol oggi e ne farà tanti altri, perché ci ha dotti e qualità superiori. Volete chiudere con un anticipo di Natale, così in amicizia, una stretta di mano, magari qui davanti alle telecamere, insomma suggeriamo almeno il discorso, la partita è finita, tutti amici, sono fratelli gemelli, per cui ci mancherebbe altro. Bene, buona cena a questo punto. Anche a voi, buona serata. Ciao. Grazie ragazzi.